Siete qui con noi a Sport Authority, campionato italiano di calcio di Serie A con Tancredi Palmeri e Federico Farcomeni diamo uno sguardo a Torino e Lazio Tancredi iniziamo da te questa Lazio va avanti in Europa in campionato perde qualche colpo è perché quella è la rosa per cui non è che ci si può fare troppo dovrebbero essere sei undicesimi di quelli che hanno giocato contro lo Stoccarda a giocare all'Olimpico di Torino però questo vuol dire rinunciare a Hernanes che è comunque squalificato e a Mauri non sono assenze da poco il Torino in casa è solidissimo è imbattuto da tre mesi la Lazio non vince fuori casa da tre mesi a me sembra che tutto indichi se non si vuole essere sicuri quantomeno dell'1 se vuole avere una quota bassa di sicurezza io dico l'1x la doppia chance è 1x peraltro per il Torino mancherà Ogbonna ma torna Cerci che è quello che cambia gli equilibri per la squadra di Ventura comunque sia la Lazio quando è in queste situazioni tende a puntare al punto al pareggio per cui non importa molto l'estetica a Petkovic e chiude tutti gli spazi il Torino non segna moltissimo quindi eventualmente si può andare anche sull'under meno di tre gol totali Federico io dico sono d'accordo con Tacredi nel senso che comunque è vero che la Lazio ha vinto tre delle ultime quattro giocate a Torino in trasferta contro il Toro con un pareggio soltanto quindi il Torino non batte la Lazio in casa dal 2002 eravamo ancora al vecchio delle Alpi quindi ovviamente c'è davvero una grande differenza quella Lazio lì era un po' non era come questa era totalmente abuolica parliamo di un altro tipo di calcio ormai dieci anni fa però secondo me il Torino ha buone possibilità di vincere in più è vero anche che la Lazio l'altra volta dicevamo dopo le partite in Europa League comunque calano infatti addirittura ha vinto la Fiorentina però dopo le partite in casa in Europa League ha vinto 5 su 5 questo è vero però di quelle 5 vittorie 4 sono arrivate in casa l'unica in trasferta a Pescara dove mi sembra che abbiano vinto più o meno tutti sai che non lo sapevo ma lo sapevo quando hai si detto Pescara mi sa perché me lo aspettavo me lo aspettavo esatto quindi è vero sono vere queste cose però è altrettanto vero che Torna Cerci che comunque ultramotivato si gioca anche la convocazione nazionale questo weekend quindi secondo me farà benissimo anche se Radululic sembra che abbiano trovato l'intesa di là però sono veramente un po' usurati e in più comunque all'andata il Torino ha sferrato il colpaccio la Lazio ha pareggiato i minuti finali l'1-1 in estate non so quanto possa contare però secondo me un po' conta vince in amichevoli 3-0 un risultato comunque schiacciante quando ancora la Lazio faceva fatica di ingranare e questa partita può andare in quella direzione quindi io dico 1 per il Torino ovviamente se uno non se la senti rischiare anche l'under però non so più 1 quindi qua potete valutare voi quanto vi sentite sicuri si punta verso l'1 stare sul sicuro magari una doppia giocata un 1x oppure l'under che in gare come questa va sempre bene comunque controllate le quote trovate le più interessate sul sito di Paddy Power puntate e cliccate colt empleo anche aeree potete